Ci vediamo, arrivi puntuale, ci mettiamo a spignattare, e così, mentre fuori piove, oppure c'è il sole, comincia a guardarti negli occhi, sarebbe bello dirsi mille parole, ma siamo tutte e due un po' timidi, poi sapremo fare quel ragù vegetale. Oppure tanta frutta e verdura, fino a vivere di gusto e di cuore. Ora abbiamo finito di pranzare, ci abbracciamo di gusto e ci guardiamo un po'. La televisione, qualche volta ti guardo, tuo amiche simpatico, mi prendi la mano, la stringi un po', e anch'io so che non finirà mai questo amore di una volta che continua sotto sotto con l'emozione. Oh, yeah.